Un vasto incendio nella notte ha interessato i ripetitori delle antenne radio e tv di Monterubbio, Caina, sull'altopiano di Asiago, nel territorio di Bassano del Grappa. Ad andare a fuoco i locali che ospitano gli apparati tecnologici che permettono le trasmissioni radiotelevisive. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, le fiamme avevano avvolto più container. I pompieri hanno in breve tempo spento il fuoco che ha danneggiato tutte le apparecchiature. Sul posto personale dell'Enel e della proprietà degli impianti, le cause dell'incendio sembrano essere di natura elettrica, ma sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.